Telenova Giornale Un geometra che ha lo studio a Santa Croce e Camerina è nei guai con il fisco, infatti per l'esercizio della propria attività comunicava la realizzazione di compensi per poche migliaia di euro. Soldi che non riuscivano a coprire nemmeno le spese necessarie per l'iscrizione all'albo professionale. A seguito di una specifica autorizzazione rilasciata dal comandante regionale della Guardia di Finanza di Palermo, le fiamme gialle di Ragusa, nell'ambito dell'attività di verifica nei confronti di diverse categorie di contribuenti, tra cui appunto i professionisti operanti nel settore DILA, hanno condotto delle indagini finanziarie relative a questo geometra e sono riusciti a ricostruire il reale volume di affari delle professionista. Così è stata recuperata una somma complessiva di oltre 500.000 euro, cioè elementi positivi o di reddito non dichiarati, fra IVA dovuta, IVA relativa e per violazioni all'IRAP. E' partita stamattina un'opera di pulizia e sistemazione del costone sovrastante via risorgimento, soggetto ieri a una frana durante il maltempo e la pioggia incessante. Stamane gli operai di una ditta specializzata hanno iniziato a pulire le radici degli alberi sulla scarpata dove si è verificato il cedimento di alcuni massi. Siccome le radici degli alberi che sono sopra andando in profondità hanno disestato il terreno che c'era nella scarpata. In pratica la scarpata è troppo ripida e quindi le radici devono trovare? La scarpata è ripida, le radici degli alberi andando in profondità quando soprattutto piove con l'escursione termica e quando piove con l'acqua fanno effetto cugno praticamente e buttano giù quello che capita. Adesso voi state pulendo qua tutto il costone, state eliminando altre radici e vedete se cadono altri massi? Sì, anche perché sotto la rete ci sono dei massi che sono pericolanti e dobbiamo togliere la rete, fare tutto il disgaggio e poi ripristinare di nuovo tutto. La rete serve a sostenere da sola i massi se cadono? La rete se sono troppo grossi non ce la fa, se è sottodimensionata, se sono massi troppo grossi… Quindi si può bucare? Si può bucare, può anche aprirsi da sotto, però appunto siccome adesso dovrebbe essere fatto un intervento un po' più sostanzioso. I pizzini che all'epoca il boss Bernardo Provenzano, quando era capo di Cosa Nostra, mandava da Palermo, arrivavano a Ragusa grazie a lui, Salvatore Martorano, 86 anni, residente a Vittoria, che è stato condannato a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il Tribunale di Caltanissetta ha eseguito una serie di indagini patrimoniali coordinate dal procuratore di Caltanissetta Sergiolari e dal procuratore aggiunto Domenico Gozzo e dal pubblico mistero Gabriele Paci. Un'indagine che lo ha coinvolto e che ha portato poi al sequestro di beni di Salvatore Martorana per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro. Secondo gli inquirenti, oltre a essere stato il terminale appunto dei famosi pizzini mandati da Provenzano, Martorana aveva messo anche a disposizione in più occasioni le sue aziende agricole situate nella provincia di Ragusa per le riunioni della cupola mafiosa. La signora Maria Teresa Di Maura, una pensionata che vive con la pensione sociale, quella minima di 290 euro al mese, paga un canone d'affitto allo IACP perché vive in una casa popolare qua in via Piola Torre all'894 di 52 euro. Lo paga regolarmente, mi diceva che però da tre mesi non lo può pagare perché non può uscire. La signora Maria Teresa è cardiopatica, ha varie malattie, varie patologie e in questa casa popolare comunale ogni volta che piove, piove dentro. L'acqua da dove esce signora? Dai muri, mi collano i muri, io non lo vedo da dove però vedo le macchie poi sui muri, sui tetti, sui davanzali della finestra fino a terra che poi c'è una presa vicino per me e io ho paura perché può essere anche pericolosa, non lo so. Pensate, ieri che c'era grande pioggia come d'altronde anche oggi sta continuando un po' questo maltempo, ieri la signora che non può stare neanche all'impiedi perché è una grave cardiopatica, lo ripeto a 81 anni, raccoglieva acqua, vedete voi le immagini, l'acqua che entrava dai muri. Lei ha fatto più volte segnalazioni all'Istituto Autonoma di Casa Popolare, tra l'altro lei soffre tantissimo il freddo, il freddo lei dice la uccida. Sì, tutti gli inverni è così, sono venuto loro due volte, hanno visto però prima che poi io l'ultima chiamata che ho fatto le ho chiamate perché al terzo piano c'era un'altra condomina combinata come me, a lei gliel'hanno fatto tutto, insomma hanno riparato, qua mi hanno lasciato così, vengono, guardano e se ne vanno. Allora la signora è senza marito, i suoi due figli sono lontani, vive anche grazie, non si vergogna a dire, la signora aiutata dalla chiesa dei Salesiani perché voi capite da 290 euro, togliamo 52 euro di canone, restano per vivere, poco più di 200 euro. Signora ma come si fa a vivere, a parte la vicenda di una casa popolare dove ti piove dentro e lei è completamente sola, come si fa a vivere con poco più di 200 euro? E infatti una volta ero arretrata, non potevo pagare più l'affitto, allora i miei figli mi hanno aiutato, ho raccolto la cifra di 4.000 e rotte euro e mi hanno aiutato i miei figli, ma non posso ricorrere sempre ai miei figli, hanno famiglia, hanno bambini, ogni tanto quanto si può. E lei per esempio so che i Salesiani li aiutano, cosa fanno per lei? A me mi portano un po' di spesa, un po' di pasto, un po' di latte. Quando hai bisogno di farmaci, comprare nuove medicini? Devo pagare anche la differenza, esatto, che io prendo parecchi farmaci, comincio la mattina e finisco la sera prima di andare a letto col carduro. Venerdì è ennesimo appuntamento per la rassegna teatrale Palchi Diversi organizzata dalla compagnia Godot di Ragusa. Siamo con Federica Bisegna perché da questo venerdì in poi inizierà una sorta di sessione dedicata interamente alle donne, è vero? Sì, infatti è appunto un teatro tutto al femminile che partirà con l'appuntamento del 24 febbraio a Lumiere e si concluderà a giugno con lo spettacolo di fine corso della nostra scuola di teatro. Abbiamo deciso di mettere al centro la donna perché comunque spesso si pensa a torto che i maggiori protagonisti del teatro di tutti i tempi di solito sono sempre stati gli uomini e la donna in qualche modo è stata sempre una coprotagonista, anche se più volte una coprotagonista che poi diventa il personaggio chiave, il vero perno attorno a cui poi ruotano tutte le vicende. Questo da sempre dei più importanti drammaturghi. In questo caso invece la donna è assoluta protagonista sin da subito. L'appuntamento del 24 febbraio appunto è uno spettacolo che si chiama Grido di Donna e già da questo si capisce insomma quello che un po' vuole appunto raccontare questa bravissima attrice che è Chiara Luce Fiorito, che è un'attrice catanese che si è formata all'Istituto del Drama Antico di Siracusa, quindi ha una certa dimestichezza con i cori grechi, con le tragedie e tante altre esperienze e vuole appunto raccontare una donna che si ribella, che in qualche modo ha voglia di gridare, di urlare la sua sete di giustizia e quindi ha il coraggio di ribellarsi a poteri sicuramente più forti e più grandi di lei. La particolarità del testo è che in qualche modo partendo da un mito dell'antichità classico, qual è Antigone, che è un personaggio, è la fanciulla ribelle per eccellenza, con lei che si ribella al potere ottuso, oscuro delle leggi di Creonte e decide di seppellire il fratello che pur si è immacchiato di tradimento ma è pur sempre suo fratello e quindi il suo amore fraterno la spinge a un gesto di ribellione estremo che poi la porterà alla morte perché alla fine lei pagherà insomma questo gesto. Ed Antigone lei si ricollega invece a due figure assolutamente contemporanee legate alla nostra storia siciliana che sono Rita Atria e Felice Impastato, quindi due donne che hanno avuto il coraggio di ribellarsi alla mafia e a tutto quello che ruota attorno al potere mafioso, quindi anche agli uomini stessi della loro casa, della loro famiglia e come nel caso di Rita Atria e anche come nel caso di Felice Impastato, la madre di Peppino che va contro anche suo marito contro tutto un modus vivendi radicato in quel paese e sostiene il figlio che poi anche lui purtroppo pagherà con la vita il suo gesto di ribellione. Quindi in questo urlo, in questo grido di ribellione c'è poi una catarsi vera e propria della donna. Quindi credo che sia uno spettacolo molto intenso, di grande pathos drammatico, interessante, col tema della legalità, della giustizia che adesso credo sentiamo sempre attuale. Sarà il corto Lamianto, mirato a sensibilizzare i giovani lavoratori esposti al rischio Lamianto, un cortometraggio di circa 20 minuti prodotto dall'Ona, l'Osservatorio Nazionale Lamianto, che ha una sezione anche a Ragusa, ad aprire la conferenza nazionale che si terrà alla Scuola Regionale dello Sport sabato 26 febbraio a partire dalle 9.30. L'evento vedrà, tra gli altri, la presenza del Presidente nazionale Ezio Bonanni. Sarà proiettato in apertura dei lavori il corto diretto dalla regista Nadia Tumino attraverso due piani di narrazione, la storia di morte di una famiglia calabrese emigrata nel nord Italia e le interviste di un giornalista e di un emittente locale, interpretato da Fabio Messina, traccia le coordinate umane e sociali di un fenomeno tristamente esteso, di un dramma sociale che ha trasformato per molti troppi lavoratori la dignità e la necessità del lavoro in paura, malattia, morte. Il cortometraggio è stato girato in parte nel territorio di Priolio e nella sede dell'Ona provinciale a Palazzo dell'Aquila. Il corto è impreziosito dalla partecipazione dell'attore Marcello Perracchio, che ha dichiarato questa esperienza artistica mi ha segnato, non avrei mai potuto dire di no, mi ha rivelato l'esistenza di un killer subdolo e silenzioso. Accademia Scherma Ragusa a Foligno, quarto posto nella prova nazionale a squadre. L'Accademia era presente con Edoardo Chipinti, Simone Lacarrubba ed Emanuele Maria Di Franco. I tre fiorettisti ragusani, che già in passato hanno fatto registrare ottimi risultati, hanno conquistato un meritato e prestigioso quarto posto. Il Sodalizio e Bleo, dopo aver dominato il primo girone, ha vinto tutte le dirette finali, a raggiungere fino alla semifinale, persa all'ultima stoccata contro la squadra che si è più aggiudicato il primo posto. I ragazzi del maestro federale Roberto Molina hanno così confermato di essere in possesso non solo di ottime doti tecniche, ma anche di un ottimo spirito di squadra. Sì, sicuramente una dimostrazione che non abbiamo nulla da impediare alle altre società. Siamo noi forti anche. La sensazione è ritrovarsi in mezzo a queste grandi società. Sicuramente è una sensazione molto bella perché vuol dire che il lavoro fatto a squadra funziona e ci darà grosse soddisfazioni. La gara è andata abbastanza bene, siamo arrivati quarti, ci siamo confrontati con le squadre più alte di noi. Siamo stati bravi, abbiamo tirato bene e io sono contento di questo risultato. Per me è stata una gara molto bella, ci siamo scontrati con le squadre più forti, però siamo riusciti a vincerle. Secondo me è stata un'esperienza molto bella e secondo me ho tirato bene. L'anno scorso a Montecatini siamo arrivati i 33esimi, però quest'anno ci siamo allenati duri per ottenere questo risultato e siamo arrivati quarti. Comunque è stata una bella esperienza e spero che l'anno prossimo si rifarà.